Attenzione, elevati livelli di radiazioni, la Tuda ti proteggerà per un periodo limitato nella sala. Ti consiglio di fare in fretta. Non rimanere lì dentro troppo a lungo se non vuoi finire arrosto. Ok, apertura portello tra 3, 2, 1, vai! Ok, apertura portello tra 3, 2, 1, vai! E' il lavoro, pilota. L'energia è tornata. Bene, abbiamo l'energia. Aprite le saracinesche. Attiviamo questo trasmettitore. Saracinesche a parte. Diagnostica completata. Energia al 100%. Riavviare puntamento parabolo. Riavvio modulo direzionale iniziale. 60%. 70%. 80%. 90%. Attenzione, rilevato errore. Svegnimento energetico. Capitano, il modulo direzionale non è attivo. Dannazione, scommetto che l'IMC sta arrivando. E' un'ipotesi sensata. D'accordo, possiamo bypassare il modulo? No, signore. A meno che non vogliamo inviare un messaggio a tutta la flotta IMC. Dovremmo riparare il modulo manualmente. Pilota, ci farebbero comodo le tue capacità. Spero che ti vada di fare un altro viaggio all'inferno, pilota. Ripara il trasmettitore sul posto e torna subito qui. Comandi trasferiti a pilota. Fai attenzione. Abbiamo già perso molti bravi soldati laggiù. Le scansioni indicano un pilota caduto. La mia memoria lo ricorda come un combattente eccezionale durante l'operazione Rottura. Cos'è Rottura? Rottura era il nome in codice di un'importante operazione di rifornimento condotta dalla milizia sul pianeta Victor. Abbiamo subito molte perdite, ma la flotta è sopravvissuta. Diavolo. Le scansioni rilevano un modulo direzionale in funzione, 428 metri a nord-est. Le analisi indicano che il lancio è l'unica opzione. Posso lanciarti oltre lo spazio vuoto. Sei sicuro? Probabilità di successo 68%. E il restante 32%? Probabilità di lancio incompleto pari al 32%, con conseguente trauma grave, massiccia emorragia interna e molteplici fratture composte. Possibile smembramento, eventualità di folgorazione e disintegrazione nella nube tossica. Vento, tre nobi, direzione 274, distanza 95 metri, peso proiettile 89 chilogrammi. Fidati di me. Bel lancio. Non c'è di che, pilota. Buona fortuna laggiù. Richter, qui è Blitzk. Sì, qui è Richter. Quel dannato pilota cerca di usare il trasmettitore. Fermalo. Conto su di te. Passo e chiudo. A tutte le unità di sicurezza, qui è Richter. Raggiungete subito il trasmettitore. Trovate quel verme. Non deludetemi. Ricevuto. Zulu 1, Kilo 1. Convergete. Alfa 2, mandate i soldati a terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Navicelle IMC verso di te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bersaglio perso. 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 No, no, no. Ok, no vettaccio! Asparete! Si che pesce! No lo vedo! Espenso mi interrindo! Come verso presione bloqueata! Per matern! Grazie a tutti! 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 Pirata! Grazie a tutti! 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 Chilo 1-4! Pilota nemico avvistato nella tua direzione! Conferma! Chilo 1-4! Mi ricevi? Rispondi! Chilo 1-4! Chilo 1-4! Non risponde! Tutti pronti a ingaggiare il bersaglio al trasmettitore 4! Richievuto in posizione al trasmettitore 4. Pronto a intercettare. Sfierate gli stalker! 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 Non vedo il pilota! E' qui, ci sta sotto! Non vedo il pilota! Non vuole scappare! Non vedo il pilota! Non vedo il pilota! Mi sta sotto! Mi serve su parte! Non vedo il pilota! Modulo direzionale rilevato, controlla il tuo AD Julu 1-6, la squadra al trasmettitore 4 è stata eliminata Forse il pilota prova a trasmettere da lì Julu 1-6 a Richter, non sappiamo le intenzioni del pilota Potrebbe tentare di allontanarci dal Titan No, concentratevi sul pilota Ho altri piani per il Titan yearsino Io Voi Grazie a tutti. Bene, sei ai comandi. Muovi la parabola verso l'estrema destra per avvicinarla. Alfa 2-1 non è ancora morto. Datemi un aggiornamento, passo. Richter, servono rinforzi. Pilota nemico ancora attivo al trasmettitore 4, passo. Rinforzi? I soliti smitollati degli NG. Invio rinforzi. Concentrate il fuoco. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Noi, 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 noi! Noi, noi, noi! Noi, noi, no! Noi, noi, no! Noi, no! Noi, no! Noi, no! Noi, no! Noi, no! No, 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 no!